e ed ecco c'è questa nuova puntata di a tutto ponente ospiti in studio abbiamo due amministratori di campo rosso che sarà il comune oggetto di questa puntata tiziana civardi al mio fianco il sindaco benvenuta e giampiero alberti assessore di campo rosso buonasera grazie allora parliamo un po di campo rosso di questa realtà abbiamo diverse notizie da analizzare ma sindaco partiamo da una curiosità se ne è parlato molto nei giorni scorsi un'ordinanza molto particolare avete vietato l'uso dei tacchi a spillo nel parco giochi dei bimbi può sembrare una notizia diciamo così folcloristica nella realtà non è che si è vietato l'uso del tacco a spillo si è vietato l'uso di qualsiasi oggetto possa rovinare l'antitrauma dei nuovi giochi e un tacco a spillo un tacco che non sia una zeppa abbiamo già constatato che col peso della persona camminando sopra il tappeto lo buca e poi l'acqua si infiltra e quindi va a rovinare questa superficie che a tutela dei bambini che usufruiscono dei giochi quindi è un vero peccato ma lo stesso potevamo mettere anche un ombrello perché chi va con un ombrello abbiamo scritto qualunque cosa punta che possa rovinare il tacco era una cosa più emblematica perché una mamma può anche non pensare di fare un danno magari poi se ne accorge ma se passano dieci mamme noi abbiamo magari cento buchi invece se ne mettiamo un piccolo avviso le mamme fanno attenzione se hanno il tacco non vanno sul tappeto e la volta prossima noi le donne scarpe ne abbiamo sempre di tanti tipi possiamo essere sempre leganti anche con una zeppa o con un sandaletto quindi le mamme pare che abbiano apprezzato non si sono sentite sminuite dal fatto di non poter accedere non ci sono state proteste no 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 anzi le mamme hanno capito e hanno ringraziato perché non è le prime è certo perché non è una non le diamo niente non le diamo una mamma si può anche togliere i sandali cioè un po' da scalza non diciamo niente se per caso quel giorno proprio non ci ha pensato quindi le mamme hanno apprezzato il fatto che noi tentiamo di salvaguardare al massimo la sicurezza dei loro bambini tutto è nato perché qualche buco l'avete già trovato perché dopo il primo giorno ci siamo accorti che c'erano dei forellini e abbiamo visto una signora che camminando affondava anche lei sempre guardate ha detto ma faccio un danno è venuta via subito quei tappeti diciamo di protezione perché attutiscono eventuali cadute e sì sono tappeti speciali che sono alti almeno 10 centimetri non di gomma riciclata ma di caociu e quindi sono molto morbidi molto elastici proteggono bene dalle cadute ma sono anche abbastanza delicati è un tappetino speciale perché a volte si vedono quei quadratoni che sono proprio piccoli in vostro invece no il nostro è veramente un tappeto antitrauma a normativa perché le normative poi si susseggono quindi bisogna sempre visto che abbiamo fatto i giochi è giusto averli all'avanguardia per quanto possibile e questo tappeto costa più di 20 mila euro quindi non è un investimento da poco anche per tutta la collettività ci abbiamo investito nella sicurezza dei bambini è giusto è la prima cosa da fare meglio avere il tappetino prima del gioco e che non il gioco senza il tappeto però proprio per questo che non si può fare ogni giorno questa operazione va a maggior tutela tutelato via maggior ragione tutelato tra l'altro ci sono anche delle sanzioni esattamente l'ordinanza che è stata firmata dal sindaco prevede una sanzione da 25 euro a 100 euro nel caso in cui si accerta un'infrazione appunto questo calpestio con i tacchi piuttosto che l'utilizzo di oggetti contundenti come l'ombrello o altri oggetti a punta che possano rovinare questo tappeto il sindaco ha precisato che il costo di questo di questo tappeto antitrauma è stato ingente perché più di 20 mila euro è sicuramente una cifra importante e bisogna anche spiegare come è stato fatto perché è curioso tu prima parlavi di queste mattonelle che solitamente si vedono sotto i giochi dei giardini pubblici mentre il nostro tappeto è proprio colato come il cimento nel senso che è stata fatta una base in cemento sopra è stato colato questo materiale gommoso il sindaco diceva di caucciù che è alto più di 10 centimetri ha più strati diversi perché la consistenza varia a seconda degli strati e l'ultima parte tra l'altro è anche simpatica perché è colorata per cui è proprio tra virgolette quasi un un'opera d'arte ecco perché nessun giardino del nostro comprensorio ha un tappeto così simpatico i vigili andranno ogni tanto da un occhiato sul rispetto la polizia municipale seppur esiguano le forze perché purtroppo le forze del nostro comando non è che sono molte però sono attenti a osservare che il patrimonio del comune venga rispettato e soprattutto che non non vengano diciamo commessi danni e io mi auspico che non ci sia nessuna sanzione che ci sia il buon senso da parte delle persone a conservare il patrimonio senza dover essere assoggettate a sanzioni dovessi esserci però chiamateci perché sarebbe un caso nazionale limite e pensare che questa cosa qui dei tacchi a spilo è nata quasi per scherzo per gioco nel senso che effettivamente siamo entrati dentro i giardini pubblici e ci siamo resi conto che c'era questo questo problema abbiamo chiamato poi l'avete fatti quando abbiamo fatto nella settimana scorta praticamente sono nuovissimi l'investimento totale è all'incirca di 50 mila euro tra tappeto antitrauma e giochi sono giochi divisi in due settori il settore per i bambini più piccoli e diciamo fino ai tre anni e tre anni poco più e poi i giochi per i bambini più grandi dove sotto appunto c'è il tappeto così come sotto l'altalena abbiamo messo il tappeto proprio per evitare problemi in caso di caduta e questi giochi più grandi sono veramente molto molto belli perché sono tutti colorati ci sono scivoli scivolo lo scivolo anche chiuso per cui i bambini hanno apprezzato molto diciamo questa innovazione che abbiamo voluto portare sindaco allora abbiamo passato il giro di boa estivo passato ferragosto come sta andando intanto il turismo beh insomma noi abbiamo numeri piccoli perché non siamo una cittadina siamo una cittadina più stanziale e residenziale però ci piace ci piacerebbe diventare un polo di attrazione per famiglie e per turisti che amano la bicicletta che amano la natura perché Campolus è un grande territorio non siamo numerosi siamo solo 6.000 ma abbiamo un territorio molto vasto con delle peculiarità abbastanza interessanti per quanto riguarda la natura abbiamo un'osi faunistica abbiamo dei calanchi abbiamo qualche opera d'arte e abbiamo soprattutto l'idea di una pista ciclabile che attraversi tutto il nostro territorio una parte l'abbiamo già realizzata perché dopo il sottopasso che ha ferroviario che ha dato ampio respiro a nostra zona mare che non si è ancora sviluppata ma noi pensiamo che grazie a questa grande opera che sta a questo sì un vero impegno per il nostro comune perché mi ha speso più di un milione di euro il sottopasso il sottopasso con sicurezza con un tanto di pista ciclabile a lato ci ha aiutato la regione Liguria naturalmente perché da soli non avremmo potuto fare un'opera di questo di questo genere la regione ha creduto in noi e ha creduto a questa zona che è una zona quasi vergine perché c'è ci sono campeggi ci sono strutture a basso impatto e c'è ancora tanto da fare abbiamo la bandiera blu abbiamo una spiaggia libera e sorvegliata dove il turista si può sentire coccolato però spendere molto poco voi avete una piccola lingua sul mare ma vantate la bandiera blu e sì forse siamo la più piccola bandiera blu d'Italia perché abbiamo solo 300 metri di spiaggia però cerchiamo di dare a poco costo o quasi nullo tutti quei servizi in collaborazione con i locali che ci sono sulla spiaggia di far sentire il turista a proprio agio spendendo molto poco perché con pochi euro 5 credo uno può prendere la sua sdraio se la va a prendersi alla posizione può prendere una due o tre nessuno dice niente ha le docce a beach volley ha il bagnino a disposizione quindi le mamme possono stare tranquille perché è anche una mamma che sa nuotare è meglio se c'è il bagnino che da una mano per guardare i ragazzini e la spiaggia è molto affollata noi raccogliamo il bacino dei nostri turisti ma anche i turisti delle località limitrofe che preferiscono venire alla spiaggia da noi allora visto questo noi pensiamo di potenziare abbiamo fatto questo investimento del sottopasso adesso a ottobre partirà la pista ciclabile che congiungerà il sottopasso, il mare e creeremo la passeggiata mare che si congiungerà con Valle Crosia questa sarà una bella opera questa è una bella opera perché sempre cofinanziati dalla regione Liguria si potrà dal centro storico in bicicletta in sicurezza raggiungere il mare e non dover parcheggiare, fare una bella passeggiata a lungo torrente dove c'è anche un bel parco urbano quindi sia gli adulti che i ragazzini possono tranquillamente anche con la fascia d'età che è un po' difficile oggi gestire che sono i neoadolescenti dove è difficile dare autonomia in questo caso le mamme possono dare autonomia ai propri ragazzi possono scendere al mare da soli invece bisogna accompagnare con l'automobile andarle a prendere e il ragazzo cresce meno anche questo vuol dire pista ciclabile vuol dire anche saper gestire la propria vita e cominciando naturalmente a essere autonomi, rispettare l'orario andare e venire poi lì c'è il bagnino quindi anche un ragazzo che sa notare è più facile dare un minimo di autonomia ai nostri ragazzi che io parlo dei ragazzi di Camporosso ma poi possono essere anche ragazzi non residenti il prossimo passo ancora più importante sempre con la collaborazione e il finanziamento questa volta veramente cospicuo dalla regione Liguria che crede, io le ringrazio perché credono in Camporosso noi siamo piccoli, non siamo una grande realtà quindi quando qualcuno di più grande crede in noi si tratta spesso in diverse cose mi viene per esempio la differenziata la differenziata anche questo anche questo sembra qualcosa che non c'è niente uno serve per prendere la bandiera blu perché la bandiera blu non è spiaggia pulita, acqua pulita è senz'altro spiaggia pulita, acqua pulita però c'è tutto ma è qualità della vita, è servizi, è ambiente e il fatto di fare il porta a porta noi facciamo il porta a porta di incentivare i cittadini ad avere il biocompostere e fare lo sconto del 10% tutto questo crea una sensibilità e noi cerchiamo di captare quel tipo di turista che è sensibile a queste cose perché sembra facile ma non è facile trovare una cittadina che si dedica a 360 gradi all'ambiente bisogna anche educare i propri cittadini non è facile non è facile non è facile perché è faticoso come fate? eh proviamo proviamo facciamo come fa adesso mi passo il termine un buon padre di famiglia cosa si fa a casa? si spiegano le cose non si punisce si incentiva e si premia quando uno fa bene si mette in competizione il familiare nel senso che non ti dico che sei stato cattivo ti dico che l'altro è stato più bravo e allora e a quel punto ti rode ti rode e migliori senza sentirti sminuito perché se ti dico che sei stato cattivo allora ti dico che sei stato cattivo per cattivo non faccio nessuno sforzo e non ti dico che sei stato cattivo a meno che tu proprio non faccia qualcosa che non va qualcosa di precabile ecco però cerco di premiare il più possibile e di incentivare il più possibile diamo i diplomi citiamo le persone che sono state brave queste cose piacciono piacciono e sentono che lo sforzo fatto perché è uno sforzo perché è più facile buttare tutto e da un risultato economicamente e moralmente avete fatto anche un incontro sulla pista ciclabile tornando a quell'argomento recentemente praticamente uno può partire da Camporosso in futuro esatto arrivare sulla costa e spostarsi e andare fino a Bordighiera esatto allora diciamo che la regione Liguria ha investito molto sulle piste ciclabili e ci ha aiutato molto a noi come Camporosso perché è già da anni che abbiamo un tratto di pista ciclabile abbiamo risanato completamente un'arginatura che era diventata durante il periodo dell'alluvione del 2001 non so molti ascoltatori si ricorderanno era diventata il deposito di detriti di terra e di risulta che era stata recuperata per cui era un'area da bonificare noi l'abbiamo bonificata cercando di ridare ai cittadini un percorso naturalistico perché il torrente Enervia quando si passa lì è veramente un percorso naturalistico di eccezionale valore il sindaco ovviamente ha parlato dei nostri cittadini e non può fare altro essendo il primo cittadino di una comunità però bisogna pensare anche ai turisti che vengono nel nostro territorio noi siamo a due passi da Sanremo siamo a due passi da Monte Carlo abbiamo una pista ciclabili che è invidiata in tutta Europa se non addirittura in tutto il mondo che è quella di Area 24 che collega tutte le cittadine costiere intorno a Sanremo quella di Camporosso è la prima in trattura verso l'entroterra perché la pista esistente che va dal mare diciamo quasi dal mare perché adesso dobbiamo completare quest'ultimo pezzo di cui parlava il sindaco insieme alla passeggiata con Valle Crosia però andrà dal mare fino a Dolceacqua cioè avremo 7 chilometri indicativamente di pista ciclabile che costeggerà il torrente sul secondo tratto quello che è stato recentemente finanziato dalla regione Liguria che sono lo ricordiamo 690 mila euro di finanziamento che arriva dalla regione il comune comparteciperà per arrivare a un progetto definitivo di 920 mila euro per cui un progetto molto consistente e si recupererà il canale Riguo per cui daremo valore valorizzeremo anche il bene acqua pubblica se ne è parlato tanto negli ultimi anni con il referendum però è bene continuare a ricordare il valore dell'acqua pubblica per cui non utilizzare l'acqua del rubinetto per andare a irrigare i campi ma utilizzare l'acqua del torrente così come facevano i nostri anziani e così come metteremo in sicurezza alcune parti di argine del torrente Nervi ecco sono tutte opere che magari uno pensa vanno a fare la pista ciclabile con tutti i problemi che ci possono essere in questo momento però sono queste opere strutturali che servono sia dal punto di vista turistico per invogliare e far venire qua il turista magari del nord Europa che apprezzano molto queste cose così come recuperare un canale Riguo che è parte della storia della nostra comunità parlando di acqua mi viene in mente un altro progetto importante quello dell'acqua pubblica sì allora l'acqua pubblica l'acqua è un bene che noi pensiamo che sia infinito in realtà stranamente l'acqua è un bene finito quindi bisogna imparare a rispettarlo noi abbiamo questa grande fortuna che basta girare una levetta o alzare e l'acqua esce bisognerebbe che tutti noi facessimo una settimana come facevano i nostri nonni io non dico di andare a prendere tanto la ma andare alla fontana del paese prendere un secchio e portarle in casa allora se noi avessimo solo un secchio d'acqua a disposizione e si capisce la fatica ci renderemo conto della fatica di portarlo su del fatto che quest'acqua può avere più usi perché possono lavare i piatti inaffiare le piante i miei nonni io sono convinta mi ricordo l'acqua quando avevo una casa in campagna che non era servita ancora dall'acquedotto l'acqua faceva più giri cioè l'acqua si raccoglieva l'acqua piovana c'era quella della fonte migliore per bere quella più vicina era proprio un problema l'acqua e tu ogni volta trovavi una soluzione per economizzarla e usarla al meglio perché era preziosa perché senza acqua si muore cioè possiamo vivere senza anche mangiando molto poco ma senza bere noi non possiamo vivere e questo noi non lo apprezziamo abbastanza quindi bisogna cercare di avere tutti quegli accorgimenti per cercare di sprecare meno acqua e abbassare l'uso dell'acqua depurata per usi che non sono quelli potabili diversificare certo perché innaffiare i campi con l'acqua clorata a parte che fa malissimo alle piante quindi non è utile però è uno spreco non va bene bisogna cercare di recuperare tutta l'acqua che si può e il canale il rigo è una risorsa importantissima è una traccia storica perché faceva andare tantissimi mulini che adesso non ci sono più però noi avevamo una decina di frantoi il paese viveva era ricco il campo rosso perché viveva grazie a questa traccia d'acqua lì c'è il rio Seburin portava l'acqua a 20 mili al 20 mili la captavano a campo rosso l'acqua quindi i cittadini di campo rosso a maggior ragione deve avere una sensibilità alta nei confronti dell'acqua perché ha più strumenti degli altri per accoggersi dell'importanza dell'acqua perché basta osservare basta osservare il lavoro che l'uomo ha fatto per le canali di rigo basta osservare il vecchio acquedotto romano allora l'acqua non posso sembrare battaglie politiche quelle di dire che l'acqua deve essere di tutti è quasi demagogico ma è vero l'acqua è di tutti qualcuno mi ha detto ma se io proprio ben detto qua in Africa mica se ne accorgono ma il discorso educazione che facevamo prima è una questione culturale è una questione culturale e i distributori ed è per questo in tutto questo ci sta anche il distributore dell'acqua gasata che uno eliminiamo la plastica che questo sarebbe già sufficiente due io non vorrei che non me ne vogliano chi vende acqua minerale ma l'acqua sta dei giorni ai giorni al sole e i polimetri io voglio essere dico giorni ai giorni non voglio esagerare diciamo giorni al sole nei bancali e i polimeri si liberano non saranno velenosi ma bene non ne faranno forse è meglio prendere l'acqua all'ostra è semplice acqua del rubinetto è l'acqua depurata filtrata gasata è fresca la puoi prendere subito ne puoi prendere quanto ne vuoi spendi pochissimo ricicli le tue vecchie bottiglie perché con sei bottiglie fai tranquillamente quello che devi fare fai bene all'ambiente fai bene al tuo portafogli ti senti in qualche modo utile anche a tutti gli altri e ha già avuto successo ha avuto molto successo pur senza una gran pubblicità assolutamente siete i primi a quello diciamo vero Gian Piero? esatto senza pubblicità perché l'abbiamo installata la settimana scorsa nei primi cinque giorni sono state erogate mille bottiglie abbiamo messo due fontanelle siamo l'unico comune a quanto ci risulta ad avere salato due fontanelle dell'acqua una l'abbiamo messa vicino ai giochi di cui parlavamo prima a Camporosso Mare e una vicino al centro storico di Camporosso e tutte e due le fontanelle abbiamo verificato che hanno erogato più di mille bottiglie in soli cinque giorni per cui non sapendolo tra virgolette ancora nessuno è molto probabile che possano aumentare questi dati ma la cosa bella secondo me è pensare che l'acqua viene captata proprio sotto il territorio comunale di Camporosso perché a Camporosso ci sono i pozzi d'acqua tra i più grandi della provincia insieme al bacino del fiume Roi per cui viene presa proprio lungo la via Braie di Camporosso viene trattata ovviamente dall'acquedotto e arriva direttamente alla fontanella poi con il sistema di filtraggio di raffreddamento di gasatura viene servita ai cittadini a un prezzo diciamo quasi irrisorio perché sono 5 centesimi al litro si ha una bottiglia di acqua fresca pulita e molto buona per cui invito tutti i telespettatori che passano da Camporosso a venirla a provare tocchiamo l'argomento polizia municipale perché nelle scorse settimane ne avevamo anche parlato nei telegiornali c'è stata una firma un accordo importante che può aprire nuovi scenari lo ricordiamo un attimo io sono diciamo l'operaio che ha cercato di mettere su questo piano di collaborazione l'anno scorso qui in trasmissione ne avevamo già parlato abbiamo fatto una trasmissione grazie a te Federico Imperia TV dedicata a questo argomento e sono molto contento di essere qui oggi a riparlarne il sindaco che è qui vicino a me ha ovviamente chiamato ha raccolto i sindaci dei due comuni limitrofi Ventimiglia e Valle Crosia e si è proceduto nelle scorse settimane alla sottoscrizione ufficiale di questo piano di collaborazione tra le polizie municipali bisogna tenere presente alcune cose innanzitutto le difficoltà da parte dei comuni ad avere del personale operante sul territorio perché tutti i limiti imposti dal governo centrale non permettono ai comuni di avere disponibilità di personale di agenti di polizia municipale e non si possono fare assunzioni di conseguenza bisogna cercare di collaborare ancora di più rispetto a quello che si faceva prima quando uno ha le forze può anche fare tutto da solo quando le forze iniziano a mancare è bene iniziare a mettere assieme le energie seconda cosa punto fondamentale noi abbiamo un'unica strada perché da noi non esiste ancora l'aurelia bis e poi vorrei anche soffermarmi su questo argomento non esiste una strada alternativa all'aurelia e molto spesso si creano dei problemi seriti di viabilità succede un incidente sul cavalcavia di Ventimiglia si blocca tutta la viabilità fino a Bordighera così come si blocca tutto il centro di Ventimiglia ecco cosa prevede questo piano di collaborazione che abbiamo voluto e voglio anche ringraziare pubblicamente il commissario di Ventimiglia il dottor Aversa che sta portando avanti le sorti dei comuni di Ventimiglia insieme ad altri suoi colleghi però lui si è impegnato molto per questo piano di collaborazione e poi dicevo abbiamo voluto mandare i nostri operatori da un comune all'altro l'attuale legge della Polizia Municipale non permetteva agli operatori esatto bisognava fermarsi non si poteva andare oltre se non per accertare diciamo per accertare un'infrazione che è stata commessa sul proprio territorio per cui una macchina che non si ferma al posto di blocco puoi andare oltre il confine comunale e fermarla ecco mentre con questo piano di collaborazione ci si può muovere da un comune all'altro ovviamente ci si può muovere previo contatto tra i responsabili dei vari comandi per cui i comandanti si sentiranno anche solamente telefonicamente per cui con una procedura molto semplice però ci potrà essere questo passaggio da un comune all'altro la procedura per arrivare a questa sottoscrizione ufficiale non è stata semplicissima perché la giunta comunale di ogni comune ha dovuto approvare il piano di collaborazione il piano di collaborazione è stato inviato alla prefettura d'Imperia che lo ha vagliato è tutto un iter c'è stato un iter complesso che ha portato appunto alla sottoscrizione del piano quindi si vanno a ottimizzare le forze esatto cioè quello è l'obiettivo bisogna cercare di ottimizzare le forze dare ai cittadini un servizio migliore sul territorio perché non ci si pensa molto spesso però nel momento in cui si blocca il traffico cioè si blocca l'economia di un territorio penso alla persona che deve andare a lavorare e rimane bloccata magari per mezz'ora 40 minuti nel traffico penso al fornitore che deve fare la consegna nel ristorante piuttosto che deve portare le medicine in una farmacia che rimane bloccato cioè noi molto spesso non ci rendiamo magari conto di quelli che possono essere le conseguenze le conseguenze però si blocca l'economia e si crea un danno forte all'economia per cui è anche un modo per cercare di dare una risposta di questo tipo il piano si divide in due parti una parte per interventi improvvisi per cui l'incidente stradale che blocca il traffico e qualsiasi problema di protezione civile in caso di problemi di caramità o quant'altro e di un'altra parte per manifestazioni esempio il comune di Ventimiglia necessità per la battaglia di fiori di un rinforzo di personale a quel punto senza nessun tipo di procedura autorizzazioni si può mandare il personale del comune di Camporosso di Valle Crosia a operare anche all'interno del comune di Ventimiglia io per il futuro cosa mi auspico mi auspico che questa collaborazione diventi più stabile perché oggi è una collaborazione intercomunale sperimentare durerà da quest'estate fino alla fine dell'anno per cui io mi auspico che con l'anno prossimo possa assumere una stabilità e possa coinvolgere anche altri comuni costieri il comune di Bordighera e il comune di Ospedaletti io proprio questa mattina ho avuto un incontro con il sindaco di Bordighera al quale ho parlato della possibilità di inserire anche Bordighera all'interno di questo progetto così come ho già parlato a lungo negli anni scorsi perché il progetto il lavoro che ci sta dietro è un lavoro lungo ho già parlato anche con il sindaco di Ospedaletti che si era reso disponibile a entrare a far parte anche lui di questo progetto però bisogna dare continuità territoriale non possiamo mettere tre comuni saltarne uno e poi mettere l'altro ecco se si riuscirà nei prossimi anni ad avere una gestione unica dei servizi di polizia locale sul territorio costiero a quel punto viste le difficoltà che hanno anche i comuni montani si potrà pensare di dare un servizio anche nell'entroterra quando magari nell'entroterra c'è la manifestazione come possono essere i fuochi di dolce acqua che richiamano una marea di persone ecco adesso io penso a manifestazioni stabili così come a servizi che non possono magari permettersi altri comunelli ancora più dell'entroterra come possono essere Castelvittorio o Seborga che hanno le necessità esatto di avere magari la gente di polizia municipale una volta anche solo la settimana ecco dobbiamo pensare in prospettiva e cercare di far sì che la pubblica amministrazione nel 2013 ormai io penso 2015 sia qualcosa di compatto lavori assieme si cerchino di ridurre le spese per dare un miglior servizio ai cittadini è chiaro che mettere assieme le forze vuol dire cercare di ridurre i costi di gestione per dare ai cittadini un servizio migliore Sindaco per chiudere il prossimo progetto in cantiere eh beh i progetti ne abbiamo ne abbiamo parecchi noi il progetto più insomma più a cui più teniamo è proprio il ponte Carrabile e l'Aurelia chiamiamolo Aurelia Bissa questa è una grande soddisfazione è un progetto che va avanti già da un po' però è un progetto che noi teniamo veramente perché aprirà nuove prospettive alla nostra zona di Ponente devo dire grazie all'intelligenza degli assessori regionali e dei funzionari ma anche dei miei colleghi sindaci e dei miei colleghi protempore i commissari prefettizi perché non era mai successo che quattro cittadine Ventimiglia Camporosso Valle Crosa e Bordighera concordassero un tracciato fattibile e la regione dicesse sì questo tracciato è un tracciato ottimale noi investiremo in questa in questa in quest'idea il primo passo sarà il ponte Carrabile che unirà Ventimiglia e Camporosso un nuovo ponte sul Nervia da lì a Tranche per seguirlo bisognerà stare dietro bisognerà però bisognerà per forza sono buone prospettive anche da parte di privati investimenti da parte di privati se riuscirà arrivare dall'hotel grande hotel del mare scusatemi la pubblicità ma quello è per capire il posto a praticamente Nicolo Cio che andrà a Roverino liberando dal traffico quattro cittadine rendendo scorrevole andando incontro a quello che diceva prima il mio assessore Alberti correttamente favorendo non solo la mobilità ma anche l'economia l'economia ecco anche l'economia allora un turista viene più volentieri noi ci spostiamo con meno stress chi deve fare le consegne le fa chi deve andare a fare la spesa sceglie da dove passare da dove passare chi deve andare a 20 miglia parte da Bordighera farà questa nuova poi se se ne blocca una c'è l'altra ma sì poi parte la sicurezza però ecco questo è un grande sogno che mi piace pensare di aver cominciato insieme a questi colleghi lo vedrò finito sicuramente come sindaco perché queste sono opere che bisogna avere pazienza si fanno nei loro tempi però si iniziano già bene però ecco è già qualcosa esatto cioè avere partecipato a questa cosa diciamo che mi rende molto orgogliosa sì bene abbiamo fatto un po' una panoramica sul Camporosso verremo a bere l'acqua gasata del Camporosso con grande piacere grazie ai nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia e grazie a tutti voi per i ricordi all'ascolto arrivederci a Grazie a tutti.